... Ok, rocambolesco ma mi piace, Bossini, accena rincorsa, anticipa il colpo. Lo sai che te l'alzo di merda, quindi il cazzo è che non esiste, lo sai che te l'alzo di merda, quindi vuol dire aspetti rincorsa rapida attacca basta balla spendi bene le braccia sulla sede è perfetta, è solo quello non inclinare la schiacca 16-13 16-13 16-13 16-13 16-13 16-13 16-13 18-13 17-14 scusate bene Anderle che ci serve qualcuno che raccoglie i palloni ci serve qualcuno che raccoglie i palloni grazie Anderle va andiamo che è sta roba 18-15 18-15 18-16 non abbassa la spalla solo quello colpisci e basta 3-13 3-13 3-13 3-13 lì per non andare dal toccio del campo cioè palleggia ed esci fuori dal campo non dal toccio del campo 18-16 18-16 18-16 5-16 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 6-16 6-16 6-16 6-16 6-16 Marco il solito discorso 3-no apriti il pallone attetti allo stesso punto in cui è attaccato Paolo dove è stato appena murato cosa serve? sono già tutti lì 19-16 19-16 6-16 6-16 6-16 7-16 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 7-18 7-17 unisci le braccia prima è difficile muoversi con le bracci unite a meno che tu non sia Annalisa 20-18 Marco spingi sta palla con le gambe mancano le gambe sul palleggio puoi dare palla vicina e basta così 20-19 bravissimo perfezione assoluta non partire con l'idea di fare un perché c'era esattamente la tecnica dove stavano marcando pari 20-20 si vanno vanno meno il salto non devi saltare sul palleggio 21-20 nuovo match point palla si nooo 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 sembri tanto Marco porca puttana 22-21 no cambia adesso ok secondo set se ne prego in battuta vai 15-15 per voi hai 7 punti Ander per essere pronto a giocare a beach volley in cambio palla 16-10 ottima la polizia da muro prese bravo comunque per se rispetto al lavoro è una posta no 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 16-11 16-12 si si palla si bravo 17-12 bravo 1-5 5-5 3 palla e vai linea 5-5 6-5 6-5 6-5 6-5 si palla puoi battere anche normalmente se è detenutivo d'altro finito le volte eh 2-3 2-3 6-6 7-6 16-15, molto bene Palla Palla Non guarda l'alzata, guarda il giocatore 16 palla Inizia Ora Palla 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 Go L'alzata Palla Iniziale Grazie a tutti. 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 Venti pari. Così in pari entrare 40 minuti prima senza le gambe. Era anche doppia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha cambiato il seguito della schiena. 20-21. 21-21. 21-21. 2-21. 2-21. 2-21. 2-21. 2-21. 3-21. 2-21. 2-21. 2-21. 2-21. 2-27. 2-22. Sì, sì. Sì, andiamo. Sì, valla. Così non ha senso. Ma perché è una palla che non puoi attaccare? 22-23. Beh, c'è il bagger. Ma che è lei con te? Ok, tie-break. Andre, vai di là. Entra in posto di chi riceve dopo l'azione di gioco. 10-5 per i battitori. Non mi interessa nessi sviluppo l'azione. Chi riceve, anche se prende ace, esce dal campo. Vai. 10-6. 10-6. Molto bene. 11-7. 12-7. 12-7. 12-8 a parte l'invasione bel palletto non la devi lasciare perché non sai che la chi è dentro 12-9 il pallone che prende è molto stretto cerchiamo di aumentarlo un pelo 3-19 sai che batte sempre in questa posizione è la cosa più sbagliata che tu possa fare 50 lì una dall'altra parte eh porca puttana ma dipende anche da chi voglio parte chi c'ha in campo? si, palla 14-9 match point si, palla 15, cambio coppia cerchiamo di voltare di fare un bug invece di fare quella cosa ridicola lì 15-11 si prova a prendere grazie a tutti 15-13 Grazie a tutti. 15-13, Andrea ha voluto aprire alle zanzare, il pesco non è entrato, le zanzare estero. 15-14. 15-15. Dopo non fa il feedback è stanco. 16-15. Le gambe in palleggio, Andrea usa i palmi, non le dita. 16 pari. Aspetta, guarda il pallone e fai la rinforza d'attacco, non partire a prescindere. Paolo ha la febbre. 17-16. 3 punti di fila. Non facciamo essere a 17. Cambio panco. Brava! Ma il cazzo! Guardi che stessa. Guardi che stessa. Guardi che stessa. Guardi che stessa. 4-1. Dai dietro, dai. Ma non è andata. Guardi che stessa. 1-2. Brava per noi. Chiega la pelle. Ce l'ha. Grazie. Quinto capullo. 18-17. Var Mario. Non ti allargare, Marco, invadi. non devi andare alto 17-18 bravissimo 18 pari buona gestione si vieni 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 deve anche non saltare vabbè tirarla dritto vieni solo di giocarla chiudi il polso 18-20 c'è un 9-20 è stato un'ora prima Marco 21 secondo set battuta 15-10 state alzando bene migliorate l'efficienza in battuta fate troppi errori stupidi con battute troppo semplici andrei non andare indietro con la schiena ammortizza le gambe scendi con il gluteo mamma mia che fiducia sai che neanche il senso deve fare così precisa vero? 16-10 16-10 16-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 7-11 andrà a non partire con l'intenzione di fare un unico colpo fai la rincorsa completa generica veloci per avere il braccio qua e i verli tutti si ok ok si si ma andiamo finisci noooo Marco ancora non stai fermo con le gambe perché non le hai ancora posizionate ma a cazzo di voi devi stare fermo cioè fai trattenuta e poi alzi anche male è casino eh 17-12 18-12 19-12 non dalla testa dalla gamba frontale dritta sulla naturale inclinazione delle braccia questo non lo puoi fare fallo 20-12 20-12 20-13 21-11 21-10-15 per chi batte vai vai no facciamo se è arrivato 40 minuti dopo vuole avere anche un sorso balla 11-15 23-12 23-12 andre prepara la rincorsa prepara il braccio non stare con il braccio basso che non serve un cazzo perché sei regredito in attacco com'è possibile che non sono attaccato sei regredito in attacco sapete attaccare fino a due settimane fa 11-16 ciao 11-17 si è andato dritto secondo la posizione della chiamata alzata e lui ovviamente aveva la palla più corta e non l'ha eseguito come tu sei 11-8 11-19 11-19 11-19 12-19 12-19 12-19 12-19 Grazie. Grande battuta. 13-9. Sì, sì. 13-10. Riccardo, tu hai difeso la palla e Marco è partito per correre a fondo del campo. C'era giusto un attimo di lag. E poi questo. Vai, cazzo. Sì. Aspetta che volate una palla esattamente nel campo. Sì, ma non si tratta di fondo, non si tratta di fondo. Ora ne fa un'altra. 14-10, fresa non stare sulle gambe, vieni sollevati i talloni, lo sapevo, lo sapevo. 15-10, fresa non stare sulle gambe, vieni sollevati i talloni, lo sapevo, lo sapevo.